bene ciao a tutti bentornati ragazzi in questo nuovo video oggi facciamo un po di ispirazione diciamo facciamo un po di idee ragioniamo su quello che è la situazione attuale del mercato delle criptovalute un po tutto quello che è successo in questa settimana è stata bella movimentata e poi soprattutto andiamo a ragionare se qualcosa effettivamente è cambiato da un punto di vista di lungo periodo la struttura del mercato facciamo sempre analisi per quanto riguarda il mercato nel breve andiamo a vedere giustamente ragazzi come posizionarci sui mercati analisi tecnica analisi ciclica che riguardano per lo più breve o medio periodo per quanto riguarda i mercati analisi ciclica può riguardare anche il medio lungo per esempio con il ciclo annuali però in sostanza bisogno anche un po secondo me accendere un faro su quelle che sono le situazioni dell'intero mercato delle criptovalute non soltanto di bitcoin anche per andare a capire se effettivamente dopo questo diciamo scossone che in effetti è stato importante di questa settimana sta cambiando qualcosa istituzionali hanno cambiato atteggiamento ci sono delle cose che dobbiamo andare a guardare sul mercato delle cripto allora alcuni dati di natura macro sono cambiati negli ultimi mesi e vi faccio vedere quali ma sono positivi per il mercato delle cripto e quindi ci lasciano ben sperare che a bitcoin e l'intero mercato manchi una seconda gamba ragazzi una seconda gamba che dovrebbe poi andare a completare il famoso ciclo dell'albing di cui abbiamo parlato anche ieri nella super live ma prima 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 di andare avanti io vi chiedo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto ragazzi lasciate mi piace perché soprattutto questi video che sono stra 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 colmi di informazioni tecniche assolutamente complessi ovviamente mi richiedono tantissimo tempo per l'analisi quindi fatemi sentire il vostro calore con i pollicioni voglio anche darvi una news perché secondo me moltissimi voi può interessare ragazzi ormai sapete che io utilizzo tantissimo per le mie operazioni di trading intraday e insomma di breve termine massimo qualche giorno utilizzo moltissimo il broker prime x bt perché ha alcune peculiarità va in leva mi fa usare la valuta btc e poi soprattutto a un funding a fine giornata non ogni autore come fa balance per esempio o altri altri exchange e quindi ragazzi mi piace tanto ma l'altro giorno mi è arrivata una mail che attiva che la defy ragazzi anche loro è una cosa secondo me interessantissima da avere su un exchange che va ad essere utilizzato per fare trading perché noi un po di capitale lo dobbiamo lasciare lì ragazzi e quindi perché no perché non metterlo a rendita allora stanno attivando questo tipo di servizio perché ho trovato in nel mio diciamo nella mia home questa scheda yield account in pratica ragazzi si può attivare in questo momento la waiting list e per quanto riguarda la struttura del covesting quindi trovate su covesting e poi dovete andare qui su yield account trovate la possibilità di iscrivervi alla waiting list di prime xbt e vi danno anche un 1% addizionale di rendimento per un mese ma non è questo diciamo la cosa rilevante è il fatto che hanno attivato questo nuovo servizio che secondo me è interessantissimo che mi piace che ci sia sugli exchange ragazzi come quelli di binance perché se non uso la liquidità perché in un determinato momento per esempio non sto facendo il mio trade allora a questo punto posso provare ad andare a in pratica ragazzi andare a metterli in rendita e farmi stare in rendita per un po di tempo quindi ok per quanto riguarda questo servizio poi qui diciamo nella nella loro blog trovate tutte le informazioni i ragazzi in teoria funzionerà così quando sarà possibile ci saranno i vari step e si possono mettere i nostri btc o le aree le altre coin anche usdt a rendita utilizzando anche il la membership che sarà data dal cove dal cove che è il loro token ragazzi il token di prime xbt legato a questa struttura che si chiama covesting l'analisi del cove la facciamo in un altro momento ragazzi un altro video perché ovviamente ci chiede troppo tempo però potrebbe essere interessante anche da questo punto di vista per il token perché il token di prime è a bassissima capitalizzazione ragazzi quindi però è contro come sempre i rischi di questi tipi di investimenti però se l'azienda lavora bene un anno che io conosco prime stanno facendo le cose come si deve può essere che ovviamente i token vanno su allora soprattutto quando ci sono questi tipi di servizi quindi perché no una piccola valutazione si può anche fare da questo punto di vista quindi questa cosa mi è piaciuta molto ma ve lo volevo dire ragazzi perché qui diciamo è appena uscita quindi è una cosa che ho visto da da pochissimo tempo allora andiamo a vedere bitcoin oggi sta recuperando per quanto riguarda questo grafico l'ho mostrato nella live di ieri andatevi a vedere la questione allora ragazzi la mia idea nel brevissimo è quella che bitcoin potrebbe magari nelle prossime settimane fare un tentativo di recupero falso cioè che va diciamo che non funzionerà per i mercati e poi magari andare a chiudere questa fase ciclica oppure questo minimo è bastato non so ragazzi ma a me l'idea che questo minimo sia abbassato non mi garba più di tanto e non vedo poi tutta questa gran forza sul mercato però questo lo scopriremo nei prossimi nelle prossime settimane quindi non mi interessa più di tanto andare a fare il cacciatore di minimi andiamo però a vedere quella che è sono delle indicazioni in particolare che troviamo in questo quello in questo paper di coin matrix ragazzi che era estremamente interessante soprattutto andare a guardare questo tipo di grafico bitcoin contro il dollaro poi andremo a vedere anche quelle che sono le correlazioni di bitcoin con ethereum uniswap bnb per cercare di farvi vedere una peculiarità che si è andata a verificare proprio nell'ultimo mese e che secondo me è importantissima da vedere ragazzi ok allora iniziamo da qui ragazzi allora la relazione fra i bitcoin è il l'indice del dollaro americano è abbastanza particolare intanto quando si fanno queste analisi tenete sempre a mente la possibilità che le cose possono cambiare perché spesso degli eventi esogeni mutano diciamo la concezione di questi andamenti però in sostanza essendo anche bitcoin utilizzato un po a mo diciamo di rifugio da un punto di vista di inflattivo diciamo di deflazione di inflazione del dollaro allora a quel punto potrebbe anche avere una specie di relazione con il il dollaro che può essere utilizzata anche a questa finalità per esempio ragazzi se andiamo a guardare nella il dollaro ha avuto due fasi di debolezza abbastanza pronunciate tra il 2000 questa era metà 2016 fino a 2016 2017 è appunto il minimo raggiunto all'inizio del 2018 e poi l'ultima quella che abbiamo visto della struttura del covid in entrambe queste situazioni la situazione di accelerazione di bitcoin è stata abbastanza evidente c'è però da dire che bitcoin nell'ultima fase quello post 2015 aveva iniziato comunque la sua fase di ripresa già da prima mentre in sostanza il mercato il dollaro continuava ad essere abbastanza forte quindi era il rialzo vedete l'indice del del dollaro poi stranamente diciamo in questa fase quando bitcoin aveva raggiunto il massimo precedente che trovate qui il dollaro ha iniziato appunto la sua fase calante per una questione ambiente di svalutazione dei tassi e bitcoin si trovava esattamente a un punto critico breccato il massimo ha dato il via alla famosa bolla che tutti conosciamo quella che è culminata con il massimo storico dei famosi 20 mila poi breccato lo scorso anno allora questa fase qui può ripetersi o si sta già ripetendo e siamo arrivati al top perché sembra proprio la distanza vedete tra bitcoin e la svalutazione del dollaro quindi la fase diciamo distante sembra molto similare ad una fase di topping allora questa è una considerazione da fare perché un rafforzamento del dollaro ragazzi probabilmente produrrà una fase di pausa da parte dei mercati delle cripto questo è in dubbio perché perché ragazzi mercati delle cripto sono prezzati in dollari quindi se noi abbiamo bitcoin verso dollaro come cripto come valutazione come coppia nel momento in cui la parte del denominatore si apprezza quindi aumenta di valore e la valorizzazione bitcoin diviso dollaro e ovviamente si riduce quindi il la struttura della della coppia di bitcoin va a decrescere naturalmente perché il dollaro vale di più per questo ragazzi non perché bitcoin manca di meno perché il dollaro vale di più quindi in quel caso diciamo si va a diminuire il prezzo per una valutazione superiore del prezzo del dollaro questa cosa però non è sempre così perché a volte il mercato per esempio può andare ancora verso l'alto in quanto il valore di bitcoin vero a prescindere dal valore del dollaro sale per appunto sua iniziativa quindi può essere anche compensato da questa cosa quindi bisogna ragionare in entrambe le situazioni in molti casi però per esempio questo tipo di relazione possiamo anche vederla in maniera positiva perché bitcoin vi ingrandisco ragazzi così vediamo meglio il grafico bitcoin in questa fase che state vedendo qui questa zona qua ragazzi assomiglia molto di più che ad una fase diciamo di di massimo assomiglia molto di più a questa fase qui del 2017 cioè sembra molto di più una pausa prima della famosa ultima legs è per questo che moltissimi anche stanno aspettando questa situazione e si può andare a fare anche un'analisi per quanto riguarda il mercato delle cripto su indicatori di natura macro a prescindere dai grafici che vediamo ogni giorno perché poi alla fine ragazzi se inizieranno un'altra legs di bitcoin si romperanno i massimi a 64 mila i grafici ce lo dicono quindi al di là di tutte queste supposizioni dobbiamo poi guardare sempre a un'inversione di trend che avverrà prima sul breve periodo poi sul medio periodo poi la ripresa del lungo periodo lungo periodo che però in questo caso coinciderebbe con il break appunto dei massimi quindi ovviamente dobbiamo vederla sul breve e medio periodo l'inversione per capire se effettivamente bitcoin sta andando a realizzare quest'altra legs però questa leg qui ragazzi questa gamba è possibile che si verifichi perché il dollaro anche in questa fase vedete che ha fermato la sua fase di svalutazione in effetti potrebbe tendenzialmente fare l'ultima l'ultimo ribasso diciamo l'ultima gambetta così e dare l'impulso finale a bitcoin che dovrebbe appunto disegnare quasi una fotocopia del 2017 e fare una cosa del genere ok tutti si aspettano questa fase qui e questo disegno nel medio lungo periodo direi più medio che lungo ragazzi perché una cosa del genere potrebbe verificarsi secondo me entro sei mesi poi bisognerà vedere fare i conti magari ottobre novembre con un'eventuale situazione per capire se la questione covid è stata accantonata quindi le emissioni di liquidità della banca centrale finiranno se la questione dell'infrazione sarà messa sotto controllo e il dollaro va bene a questo prezzo insomma ci sono tante variabili da guardare quindi quando si fanno questo tipo di analisi dobbiamo essere intelligenti a capire che stiamo ragionando più che analizzando dati però questa è l'attesa generale del del mercato da un punto di vista di analisi di indicatori macro contro il dollaro c'è poi anche la questione legata alla a come sta la la blog c'è come sta il mercato cripto in generale ragazzi e il mercato gritto in generale sta da dio perché la market cap e ai massimi storici mi ha risposto mi ha risposto sì di ragazzi non gli piace la questione del vabbè ragazzi non ve lo dico ma non gli piace la questione del del mercato questo va beh allora è allora il mercato gritto sta da dio perché perché tutti i dati in questo momento anche della correlazione decorelazione dei del top 10 contro bitcoin sono mutati per la prima volta nella storia allora questa cosa è da un po che si sta verificando non parliamo di correlazione forse da 6 7 mesi ragazzi e quindi vi riporto questo grafico perché qui ci sarà da ragionare per far capire anche a tutti che il mercato cripto è vero che bitcoin fa da padrone però ragazzi non è soltanto bitcoin nell'anno 2021 secondo me è proprio l'anno in cui si sta evidenziando che il mercato cripto ha un valore nel complesso non nell'ottica di un singolo strumento come bitcoin e secondo me è anche un modo di mettere un po il re sotto pressione perché ragazzi un po bisogna anche ragionare su queste cose quindi ok bitcoin è il protocollo fantastico sicurissimo bla 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 ma al mondo serve anche velocità al mondo serve anche le attività al mondo servono anche tanti servizi l'insegnamento che sta dando eth è importante poi magari durante una fase di crash tutto questo svanirà come nella bolla del 2017 2018 non lo sappiamo questa volta potrebbe anche essere diversa la questione certo è che questi dati che vi faccio vedere ragazzi dimostrano come il settore delle criptovalute si sta pian piano staccando dal re è proprio così è questo evento è iniziato da qui in poi cioè da ottobre circa del 2020 questa fase ha dichiarato un cambio direzionale importante per quanto riguarda la correlazione tra bitcoin e le top ten e le criptovalute più importanti in particolar modo andiamo a vedere quella di eth la correlazione tra e peri un bitcoin ragazzi è sempre ma dico sempre stata altissima la più alta forse più alta di eterni un bitcoin c'era soltanto bitcoin bch bitcoin bs ma bs 1 e meno perché quello crollata sempre ok ma ethereum bitcoin aveva una correlazione intorno a 0 9 ragazzi 0 95 cioè quasi perfetta correlazione dove andava l'uno andava l'altro che cosa è successo nella ultima fase negli ultimi mesi si sono staccati questi strumenti in maniera completamente diversa rispetto agli ultimi tre anni due anni tre anni e ve lo faccio vedere su questo grafico allora qui siamo nei precedenti mesi quelli appunto diciamo che hanno dato per conclusa la famosa fase rialzista da qui in poi la correlazione la linea rossa che vedete terium ragazzi contro bitcoin si è portata poi a luglio 2018 si è portata intorno a 0 9 e sostanzialmente è sempre stata qui con questi bassi alti ragazzi ma mai come nell'ultimo periodo guardate che cosa è successo e abbiamo visto bitcoin ed eth decorelarsi veramente per un po di tempo e la la correlazione ancora è positiva quindi comunque questo indica che se bitcoin va giù anche th subisce le conseguenze di questo atteggiamento ma non è uguale a prima ragazzi questo è importante cioè significa che th subisce molto di meno gli atteggiamenti di bitcoin e rispetto a quello che era una precedente fase ma vi dirò di più ragazzi e questo è anche significativo di un sacco di questioni andiamo ad analizzare anche gli altri indici allora abbiamo il diciamo il nostro indice che poi è quello di anche di bnb e poi ho messo qui ho messo dot ho messo uni e ho messo anche a da ragazzi in particolar modo però mi premeva farvi vedere questa questione qui ragazzi dodge 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 è la linea bluetta adesso vediamo se mi fa mi fa ecco eliminare tutte le altre così vi faccio vedere appunto quella che è la la è il grafico di oggi ragazzi guardate dodge ok allora dodge alla correlazione più bassa non è decorrelato ma è praticamente inesistente alcuna forma di correlazione con bitcoin incredibile come tutto quello che è successo da un punto di vista mediatico su dogecoin a lo ha decorrelato ragazzi quasi totalmente da bitcoin in maniera tale che doggio va per i fatti suoi in pratica non è più connesso con il re delle cripto è difficile trovare una cripto valuta che è completamente decorrelata al re ok abbiamo visto anche che se andiamo a guardare per esempio th ok sì c'è sicuramente una forma di ragazzi di correlazione molto più ampia rispetto a prima però è sempre correlato stiamo parlando di 0 6 5 0 7 quindi è correlato non a 0 9 come era prima ragazzi però però lo è ok e se invece andiamo a dare per esempio bnb che non me lo fa a guardare ragazzi quindi non ok avevo visto anche a da te che vi riaccendo tutto ok ragazzi ho riavviato il grafico si era bloccato allora vi faccio vedere anche e bnb ovviamente ho dovuto mettere bnb mainnet perché me la guardava ovviamente sono due reti diverse perché prima era un bnb adesso è diventato un altro anche qui ragazzi è evidente la situazione e con da settembre ottobre di correlazione tra binance e bitcoin completamente diversa da quello che era precedentemente stessa cosa riguarda e th ragazzi e stessa cosa anche riguarda uni benché uni l'abbiamo ovviamente soltanto nell'ultima parte quindi abbiamo un dato veramente molto piccolo quindi a poco senso guardarlo ma l'unica veramente decorrelata in una maniera più profonda rispetto alle altre e d'oggi ragazzi d'oggi questo è anche significa significativo guardate come è crollata giù la correlazione con doge e bitcoin rispetto anche al crollo che comunque è avvenuto per ethereum ma non così pronunciato allora cosa significano questi dati ragazzi questi dati significano in maniera chiara ed evidente che il mercato cripto negli ultimi mesi sta cambiando le sue regole poi vedremo se questa cosa sarà confermata ancora è troppo poco tempo per parlare di un cambio radicale che continuerà nei prossimi anni perché questo potrebbe essere anche un cambio che è soltanto dovuto alla momentum magari all'hype sulle altcoin e quindi bisognerà vedere però non è del tutto giusto andare a fare una similitudine con quella che è stato l'anno 2017 dove ragazzi nell'ambito delle altcoin di progetti erano senza niente non c'era niente che anzi usava nulla va bene adesso noi abbiamo la defy sono tutti progetti che esistono veramente abbiamo le carte di pagamento utilizziamo costantemente questi servizi quindi è completamente diverso da quello che era nel 2017 e se è vero che la correlazione con bitcoin nel 2017 si era staccata per un momentaneo hype sulle altcoin non è la stessa cosa se andiamo a vedere reti come bnb o eth ragazzi perché in questo momento sono potenti hanno dietro le spalle veramente tanti capitali la defy ha dato tanto spazio c'è la questione nft magari sulla questione doge potrebbe essere ancora correlato diciamo al famoso hype però ragazzi questo ci fa capire questo mercato sta maturando questo è quello che volevo dirvi questa è la mia idea probabilmente assisteremo a delle cose diverse nei prossimi mesi è vero che magari ci sarà una gamba di diciamo prolungamento di questa fase rialzista potrebbe essere secondo me bitcoin non la darà vinta tanto facilmente soprattutto a questa nuova situazione con tesla che fa finta che bitcoin inquini insomma perché probabilmente sta spingendo su altri progetti ma non è solo quello ragazzi secondo me bitcoin ha tante assi nella manica ancora da svelare però in questo momento il mercato delle cripto sta diventando più maturo e alcune cripto valute come terium abbiamo mostrato prima anche bnb si stanno staccando dal re e assumendo una loro vita propria non è del tutto confermato col bollino verde questa cosa ma sta avvenendo proprio in questi giorni continuerà questa è una dimostrazione che questo mercato potrebbe resistere anche un po di più di quello che è stato nel precedente periodo ad una fase di declino dei mercati old vedremo se sarà così non lo so ovviamente sempre bisogna passare al vaglio storico però i dati possono indicarci questa cosa cosa ne pensate voi di questi super dati cosa ne pensate voi di questo nuova vita cambio passo del settore cripto sta avvenendo veramente per continuare per durare anche nel prossimo anno o è solo un attimo che durerà pochissimo tempo fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti e come sempre noi ci vediamo nel prossimo video ciao a tutti